Sì, buon pomeriggio da Potenza. Sono diversi gli aggiornamenti delle ultime ore relativamente alle indagini sulla morte di Dora la Greca. Io vi faccio vedere proprio il punto esatto in cui è precipitata la trentenne originaria della provincia di Salerno che si trovava qui in Basilicata per motivi di lavoro e ovviamente anche sentimentali. Questa è la zona delimitata nella giornata di ieri dai carabinieri del RIS che ricordiamo sono rimasti per oltre quattro ore nella manzarda al quarto piano nell'appartamento appunto nella disponibilità del fidanzato di Dora Antonio Capasso indagato per istigazione al suicidio. Come potete vedere la manzarda al quarto piano è l'elemento principale di novità riguarda il fatto che i carabinieri del RIS nella giornata di ieri hanno portato via parte della copertura in alluminio del balcone perché si va a caccia di eventuali impronte digitali oppure anche impronte di scarpa che siano rimaste sul parapetto e poi l'ipotesi che la procura di potenza sta avvagliando e vuole valutare è quella ovvero si vuole verificare e cercare di capire se Dora prima di cadere nel vuoto abbia provato a salvarsi rimanendo per qualche seconda aggrappata proprio al parapetto. Questo per quanto riguarda gli accertamenti effettuati dai carabinieri del RIS ma ieri come sappiamo è stata effettuata anche l'autopsia sul corpo di Dora. Queste sono le prime informazioni in nostro possesso. Non sarebbero emersi segni di colluttazione sul corpo della giovane e le lesioni interne sono ritenute compatibili con una caduta dall'alto. Ma ovviamente per i risultati completi dell'autopsia e anche di quelli tossicologici bisognerà attendere circa 60 giorni. Non so se mi senti. Fabrizio mi senti? Ecco c'è un po' di ritardo. Non so se mi sente il collega. Vediamo. No, non mi sente. C'è adesso quando ripristeremo il collegamento audio, ecco perché non riuscivo a interloquire con lui, cercheremo di capire anche un dettaglio della antenna parabolica. Francesco Specchia, che non è un dettaglio da poco, cioè il fidanzato dice l'ho vista sbattere sull'antenna parabolica, dovrebbe essere quella del primo piano, quella che però la vediamo ancora attaccata. Ah ecco adesso mi senti Fabrizio, quindi è questa l'antenna, avrebbe sbattuto qui? Esattamente, è questa la parabola. Ma è ancora in piedi questa ipotesi? Cioè non l'hanno sequestrato la parabola, non hanno, cioè hanno tolto tutto il corrimano per vedere se la ragazza si è aggrappata, ma non hanno prelevato la parabola? Ma è una domanda, eh? Che non l'abbiano prelevata non vedo. L'ipotesi dell'impatto con la parabola è confermata, come sentiremo poi dalle parole del consulente della difesa di Antonio Capasso, ad avviso del quale però l'impatto, il colpo con la parabola non sarebbe stato quello diciamo purtroppo fatale a Dora, ma sarebbe stata la caduta, ma questo ripetiamo è una ricostruzione che ci è stata fatta dal consulente della difesa. Poi diciamo sul banco degli imputati non c'è la parabola, la parabola è importante per il punto di caduta, se è estremamente perpendicolare oppure no, siccome l'unico che dice, l'unico, il testimone oculare è il fidanzato, quindi noi sappiamo che ha sbattuto sulla parabola per questo motivo, siccome vedo che non è stata sequestrata, che non ci sono segni particolari, ma no, la parabola è ritenuta. Sì, al momento non viene ritenuto un elemento utilissimo l'indagine. Ok, grazie Fabrizio. Una questione dei punti di caduta balistici, poi lì non è che sia rilevante, e ai fini anche del fatto di attutire eventualmente il colpo, anche se poi è stato... E sulla credibilità ovviamente del testimone. Esattamente, no, il fatto che si stiano dando molto da fare per rilevare sempre evidenze di prove, questo mi fa pensare che abbiano in mente una strategia. Oltre al parapetto, la mansarda stessa è stata sequestrata, ci sono stati presi addirittura cinque valigie di materiale probatorio, quindi c'è tanta roba da studiare, quindi evidentemente vogliono vederci chiaro. Secondo me il discorso non è che sia così difficilissimo, cioè l'estegazione al suicidio è il primo capodappuso che ti viene in questo momento, poi il secondo è tentato omicidio o omicidio. Quindi bisognerà capire, anche attraverso la testimonianza del finanzato, i vari riscontri, eccetera, se in realtà si ha qualcosa di più rispetto al suicidio. Il momento del suicidio, perdonatemi questo uso improprio, cioè ci sono delle cose strane, cioè molto strane. Dottoressa Bruzzone, allora il momento dell'omicidio, tra virgolette, sarebbe la gelosia, no? C'è l'ennesima scenata di gelosia, l'ennesimo motivo di litigio fra questi due ragazzi e lei che decide in un impeto di follia, perché anche se non si può dire, lo diciamo lo stesso, di gettarsi al balcone. Questa è la ricostruzione secondo il fidanzato. Sì, però ripeto, il passaggio della parabola è molto importante, alla luce anche del materiale sequestrato da RIS, in particolare il corrimano del balcone che abbiamo tutti visto. È fondamentale, perché se veramente l'ipotesi della procura è che lei si sia aggrappata disperatamente a quella posizione che stiamo vedendo adesso, e a quel punto la traiettoria balistica è compatibile con l'impatto con la parabola, perché rimarrebbe a filo di palazzo, però a questo punto mi sembra difficile conciliare quello che lui ricostruisce con questo tipo di dinamica, cioè lui intendo il fidanzato, perché è evidente che se uno si lancia di sotto non ha modo, perché è frontale rispetto all'impatto, quindi questo sembra più un soggetto che viene spinto dall'altra parte, ci siamo? Come se fosse in qualche modo scivolata l'indietro e a quel punto abbia avuto modo, un po' dinamica David Rossi per intenderci. Certo. Ecco, però non mi torna a questo punto rispetto alla versione che ha fornito lui in base agli elementi che oggi abbiamo. Però è chiaro che l'ipotesi della procura è proprio quella che lei abbia tentato disperatamente di aggrapparsi e che poi sia precipitata in maniera diciamo perpendicolare rispetto al terreno, ma a filo palazzo, e allora a quel punto l'impatto con la parabola ci sta. Caterina. Emilo, escludendo però secondo me la volontà di suicidarsi, ma tenendo invece presente l'idea proprio del litigio di impeto della foga e quindi guarda cosa non mi dici la verità, dico una frase, è così. Quindi lei è di spalle rispetto al vuoto, sta guardando lui magari seduto, non lo so, nel soggiorno, scivola perché quel parapetto è bagnato, ha piovuto e lui corre per salvarla, non ce la fa e vede quindi anche la traiettoria. Perché io dico se quest'uomo fosse stato veramente l'assassino della sua fidanzata, avrebbe portato avanti una tesi così precisa, avrebbe detto dell'altro, avrebbe detto ero in bagno e lei si è buttata. Ci sono, diciamo, adesso sento subito Daniele. Io non voglio difendere per forza una persona che non conosco, però ci sta. Ci sono diciamo delle cose strane, chiedo anche l'aiuto della dottoressa Nardulli, ci sono delle cose insomma che un pochino stridono con il racconto generale, cioè noi non parliamo di due ragazzi innamoratissimi che vivono in simbiosi, che sono l'uno accanto all'altro tutti i giorni, anzi se andiamo a vedere i profili Facebook o Instagram dei due ragazzi troviamo una coppia molto autonoma. Allora questi sono alcuni dei messaggi che posta il fidanzato il 5 settembre, è proprio il tempo a farci capire con chi abbiamo avuto a che fare, non è proprio un messaggio di un ragazzo innamorato, andiamo avanti ancora veloci. sui messaggi che diciamo da agosto, possiamo andare avanti con i messaggi, da agosto a settembre. No. Vabbè, non si può. Ce ne sono altri, magari li leggo io? Va bene, posso provare a leggerli io. Ah, ecco qua. Ecco, intanto, intanto, qui hanno fatto la doppia fronte, lei e lui, no? Lei si vede sposata nel 2021, di quei giochini che sui social appaiono, lui nel profilo ha single. Allora, già solo questo particolare, in una coppia dove il tarlo della gelosia esiste, è presente, è possibile che un fidanzato scriva di sé single, senza che la fidanzata gli levi la pelle? Adesso è intuito. Stiamo parlando di una coppia gelosa, eh? Assolutamente sì. Infatti, secondo me, bisogna focalizzarsi sulla relazione. La relazione intesa come una relazione che non è sicuramente sana all'apparenza e poi dopo ovviamente bisognerebbe approfondire le dinamiche psicologiche. Sembra quasi che ci si trovi di fronte a una relazione di stampo narcisistico, dove per narcisistico mi riferisco all'aspetto in cui entrambi i membri della coppia non sono integrati tra di loro, nel senso non hanno sviluppato, sembra che non abbiano sviluppato nel tempo, in questi mesi di conoscenza e di frequentazione, una relazione sana, matura, con una progettualità ben chiara, ma ognuno seguiva un po' la propria inclinazione, quelli che potevano essere i propri desideri. E quindi si vengono a creare in questi casi delle dinamiche che vengono definite a livello psicologico sadomasochistiche, a livello sempre psicologico, in cui entrambi i membri della coppia si manifestano per quello che sono i loro bisogni più inespressi, quindi più reconditi. Nel caso della ragazza c'è un aspetto... Però questo messaggio è tutto giustissimo. È un aspetto di vittimismo. Però Daniele, nel caso di questo messaggio mi sembra molto chiaro. Cioè, lei a lui cosa scrive? Capito? Cioè, mi vedo, io mi vedo così, nel 2021 mi vedo sposata. Lui sul suo profilo ha single. E già questa è una cosa. Io avevo chiesto dei messaggi, ma a questo punto li leggo dal mio telefono. Sempre il 22 agosto, cosa posta questo ragazzo? Le persone, le scarpe vanno trattate allo stesso modo. Quando ti fanno male, te ne devi liberare. Cioè, se io fossi la fidanzata di questo ragazzo, mi farei delle domande. Ancora il 10 agosto scrive, esiste un tempo per stare calmi, zitti, per sopportare, ma esiste anche un tempo per reagire, cambiare e dire ora basta. È meglio avere a che fare con i matti che con i traditori, il 30 luglio. Troppe cose ci deludono, per questo cominciamo a non credere più in niente. Troppe persone ci feriscono, per questo cominciamo a non fidarci più di nessuno. Troppe cose sembrano e poi non sono. Ecco perché cominciamo a pretendere i fatti senza farci bastare più le parole. Ma questo ragazzo con chi è? Ah, ancora, le delusioni il 6 settembre. Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore. Eh beh, eh beh.